Nube che corre. Sta funzionando l'infuso. Con alcuni sì. Ma i più si uniscono agli spiriti. Come ti senti? La mia famiglia è quella di pentola nera. Non hanno usato le coperte. Le abbiamo date agli altri. Questa è la nostra punizione. Abbiamo dovuto bruciare tutti i nostri vestiti. Questo è l'unico vestito nuovo che sono riuscita a trovare per te. Era il vestito per il matrimonio di piccola luna. Mi dispiace così tanto. Salve. Io non posso, non posso dire una bugia. Io non posso dire una bugia. Io non posso dire una bugia. E nemmeno io. Sei davvero tremendo. Tieni, dobbiamo pulire la clinica per il dottor Mike. Matthew. Matthew, che cos'hai? Niente. Gli fa male la testa. Ma tu scotti. Ma no. Sì, invece adesso sdraiati. Il dottor Mike lo guarirà, vero? No. Voglio dire sì. Lo farebbe se fosse qui. Però non c'è. Lasciatemi sto bene. No, tu non stai bene, Matthew. Dice che se vedesse la malattia, se solo sapesse da dove arriva, andrebbe a combatterla. Gli do qualcosa per aiutarlo a riposare. No, grazie. Io voglio andare, Sally. Non c'è più niente da fare. Sì, invece. Noi sappiamo da dove è arrivata la malattia. Andiamo là e combattiamo. Aldo! Tornate da dove siete venute! Tornate indietro! Sono un dottore, devo tornare in città. Non mi interessa chi siete. Abbiamo ordine di sparare a chiunque esca dalla riserva. C'è il tifo là dentro. E voi come lo sapete? Vi abbiamo visti, vi stavamo osservando. Tornate indietro, spareremo. Tornate indietro! E va bene, ce ne andiamo. Tornate indietro! Coraggio. Vorrei almeno poter comunicare con i ragazzi. Può farlo. Scriva un biglietto. Vieni qui, bello. Ha con sé una benda? Sì. Eccola. Ha qualcosa di Brian da far annusare a lupo? Mi ha dato questa da rammendare una settimana fa. Vai lupo, devi trovare Brian. Vai! Sì. Grazie.